Sì, sì, certo, giustissimo. Adesso le trovi le parole. Però il coraggio di guardarmi in faccia non ce l'hai. Non è questo. Guarda, la situazione è chiarissima. Quello che dovevamo dire ce lo siamo detti. Però non ci vedo uscire. Ma tu davvero sei la stessa persona che ho conosciuto io? Perché guarda, non ci posso credere. Mi dici sempre la stessa cosa. La settima volta me lo ripete nel giro di cinque minuti. Sì, sì. Sì, allora fa come ti pare. Però non darmela a me la colpa delle tue stronzate, va bene? A questo neanche ti risconto. Allora non chiamarmi più. Scordati la mia faccia, scordati il mio numero, scordati. Mi faccio risentire il tuo, ok? Possiamo darci un'altra possibilità nel tuo, eh? Non, comunque c'è la vorta. Grazie. 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 Grazie a tutti